Vedi la ragazza, e va bene, ci vai, ok che ti affianchi con una persona in mezzo, se va più veloce, leggermente più lontano, perché sennò la spaventi La storia del passettino più avanti in realtà, Luca dice all'inizio quando non siete abbastanza bravi, fatelo sempre, quindi un passetto più avanti, dopo potete mettervi anche sulla stessa riga quando siete bravi Sì, ok, però io tuttora mi ci metto un passetto avanti per il semplice fatto che il campo visivo di una persona è 240 gradi, cioè tu riesci a vedere così fino qua Qua non vedi più, quindi se l'approcci dietro lei non ti vede e tutto ciò che tu non vedi, ma che senti solo, il tuo cervello lo ricevesse come un pericolo e quindi automaticamente ti spaventi Non a caso se qualcuno arrivava dietro e ti mettevano sulla spalla tu ti spaventi, ok, più o meno in base al tipo di persona che sei Per cui il passettino avanti in realtà è per entrare in questo campo visivo in modo tale che anche se lei non ti vede consciamente Il suo cervello comunque vede che c'è qualcosa a fianco a lei, una persona che sta camminando e quando arriva la voce della persona lei non si spaventa Cioè il suo cervello associa, ok, figura, sagoma, persona, voce, sto tranquillo Quindi è venuta alla parte dove c'è la borsa? Sì, vabbè, questa è una fissa, chi te l'ha detta questa? Qua l'ho vista su un altro borsa, l'ho vista su YouTube Sempre da noi? No, perché dopo c'è qualche altro... No, 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 scordate da sta cosa No, anche perché se devi rubare una borsa non stai a la distanza di una persona Un metro e mezzo Ci stanno quelle che a me mi è capitato Che poi me ne sono reso conto dopo Che le approccio dalla parte della borsa e loro la spostano dall'altra parte Mentre parlano con te Sì ma non fa niente, tanto è semplicemente una... Cioè se tu glielo fai notare Loro in realtà neanche te lo sanno dire il motivo per il quale hanno spostato la borsa È un comportamento inconscio che hanno anche quando sali in metro Non so se ti è mai capitato Se vedi le persone che salgono in metro Quasi tutte lo zeno se ce l'hanno dietro lo spostano davanti Tutti sanno è che perché magari qualcuno da dietro mette la mano e ruba Però è tutta una cosa inconscia Cioè non è che stanno lì a pensare No, adesso metto lo zeno... No, metro, zeno è davanti, è inconscio È un meccanismo che viene automatico E lo stesso vale per le ragazze Per cui non ti sta a pippare se hai la borsa di qua, di là Se fai le cose in maniera corretta Nessuna se ne va via, ti risponde male o cose strane Non mi è mai successo Quindi il massimo che ti può capitare è che guarda vado di fretta E lei se ne va e tu vai per conto tuo Comunque Dopo che l'hai approcciata Prima prendiamo l'attenzione E poi facciamo la frase d'apertura Quindi il ciao ti ho vista, mi è sembrata carina Ho pensato di venirti a parlare È giusta, questa è la frase d'apertura Prima di questa fase c'è Prendiamo l'attenzione Se tipo do you speak English Parli inglese tu? E poco Ok Allora non glielo dire Questa cosa dello speak English Perché se ti dice sì e poi devi cominciare a parlare in inglese Già, cioè Se mi dici che la conversazione non ti riesce fluida in italiano Parla in inglese potrebbe essere ancora più un problema Quindi magari veniamo più là Non dirgli il sorry do you speak Italian Perché puoi beccare quella stronza Che in mezzo capisce cosa stai per fare E quindi ti dice no E a quel punto tu la sei bruciata Divi semplicemente scusa Alzi la voce Ti affianchi Scusa Lei si gira E cominci Il tono deve essere alto e deciso Che non significa orlare Ma significa farsi sentire e scandire bene le parole Che è diverso Trasmetti sicurezza Trasmetti che non stai facendo niente di male Nel senso che non vuoi fargli qualcosa a lei Perché immagina se uno ti affianca a te E comincia a parlare tutto a bassa voce Che vuoi un pezzo di droga? Poi qualcosa Capito? No Quindi il tono deve essere bello alto Considerando anche che poi in centro sarà pieno di gente E ci sarà un bel casino Da lì in poi c'è la sua reazione Cioè la calibrazione Che dice Luca Avviene soltanto nel momento in cui C'è una reazione da parte della ragazza Le reazioni più comuni sono due La prima è che lei si spaventa Quindi scusa non volevo spaventarti E lì lo vedi Sgrana gli occhi Si sposta un po' E ok La seconda è quella dell'arrossire Non volevo metterti in imbarazzo Solo che è una cosa a sparare strana Che non è usuale Eccetera eccetera E basta Sono queste due reazioni qua Se no di solito è neutro Il comportamento non reagisce in nessun modo Quindi non ti sbagliare Perché nel caso in cui lei non arrossisce Non si spaventa Se tu calibri In realtà stai facendo una cosa Che in quel momento non ha senso Perché lei non si spaventa Tu gli dici non volevo spaventarti E lei dice non ho mai spaventato Quindi manchi di intelligenza sociale E a quel punto vedi lei Cosa ti dice Nella maggior parte dei casi Non ti dirà niente Oppure un semplice grazie Ok grazie E da quel punto cominci la conversazione Come si comincia la conversazione? Allora Gli agganci di conversazione sono tre Tutto ciò che passa per la tua testa E questo è il più potente di tutti Questo è proprio la cosa più potente che hai Per il semplice fatto che il tuo cervello È in costante lavoro Ok Il flusso di pensieri tu non lo puoi arrestare Neanche quando dormi Il flusso di pensieri si arresta Non a caso sogni Ok Quindi questo è il più potente che hai Perché non te lo può togliere nessuno Il secondo più potente che hai È la circostanza in cui ti trovi Quindi puoi agganciarti Sto cazzo io davvero balla tutto Puoi agganciarti A Non lo so adesso per esempio siamo a Roma A qualcosa inerente alla città Oppure a qualche particolare che è a lei addosso Se ha un giacchetto particolare Una borsa Cazzo ne so Per esempio una volta stavo vicino all'università Avevo visto una ragazza Mi piaceva Mi sono avvicinato Io poi quando mi avvicino prima Me le studio un po' Nel senso che vedo Come sono vestite Se hanno qualche cosa particolare Così almeno so già Come Quanto meno iniziare a parlare Poi da lì in poi Viene tutto in automatico Aveva un Deplian dell'università Con scritto sotto la facoltà Io l'ho letta Perché stava a fianco Alla fermata dell'autobus E quando sono andato a parlarci Io ho detto scommetto che fai economia E lei mi ha detto Sì come fai a saperlo In realtà l'avevo letto sul Deplian Che è facoltà di economia e scienze politiche E quindi ho detto ok E niente però Per dirti Quindi ti puoi agganciare anche a ciò che vedi E ciò che ti circonda Il terzo invece Argomento di conversazione Che è quello meno potente È ciò che la ragazza ti dice È il meno potente Perché nel 90% dei casi La ragazza non ti dice un cazzo E questo è il motivo per il quale Io preferisco gli appoggi di gruppo Tutti quanti dicono Eh no approcciare il gruppo Io ho paura Ho paura Mi mette più ansia Sì sei un coglione Per il semplice fatto Che approcciando un gruppo Dai tre argomenti di conversazione che hai Hai altri argomenti di conversazione In base a quante ragazze ci sono nel gruppo Se sono tre ragazze nel gruppo Tu hai i tuoi Le circostanze Ragazza 1 Il tuo target Ragazza 2 Ragazza 3 Sono 5 5 argomenti di conversazione Cominciano ad essere tanti Già ti basta il primo per parlare Però più ragazzi ci sono Più cose può agganciarti Le cose a cui può agganciarti Se sono tre ragazze Sono tre Prima erano una Quindi comunque sia Io li preferisco Ma in generale Questi sono gli argomenti E funziona così Se vuoi sapere come conoscere nuove ragazze E finirci in camera diretto Anziché soltanto collezionare numeri di telefono E appuntenti in attimale Clicca sul link in descrizione E troverai la soluzione Hai domande o dubbi? Scrivi su Whatsapp A un nostro consulente esperto Anche qui trovi il link in descrizione Grazie a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti